Appena lui fa così, servono ancora? Un filo ingrassato? No, 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 io vi vedo in grande forma. E' che questo vestito sarà perfetto, voglio essere molto preciso. Sto scherzando, fate pure. Questo lo fissiamo. Affoggiano così. Affoggiano così. Questa cosa è velocissima, perché se no... Allora io mi faccio questo. Mi fa vedere dopo... Una velocissima. E' quella della manica, scusate, la fa abbassare, fa questo movimento, e qui già, lo sa, come deve muoverse, si è già fatto più l'altro che stile. Questo qua lo ha... Una schiomba. Una schiomba. Ecco. Questo qua, scusate. Il metodo deve schiombare, è qui. Questo è il metodo di carta, lo so, non importa. Però deve avere di più... Cioè, schiomba. Infatti di solito uno lo lancia e ruota. Grazie. Grazie.